Sinistra 2, lungo Wow Unicottero Ragazzi mi sono fatto tutta la serie di WRC ma questo veramente mi sembra molto ma molto più difficile Proprio belle ragazzi queste macchine sono Ok e questo è finito Che come gameplay devo dire che non è male però boh c'ha quel qualcosa di strano che non mi piace tanto Per cui ragazzi questa è stata così una prova, adesso andiamo a vedere un po' il menu principale Allora quando andiamo al menu principale vedete che qui sotto abbiamo le cose dell'online, i vari tab dell'online Per esempio questo evento la stagione inizia a gennaio, questa è che esattamente tra 96 giorni, 5 ore, 9 minuti e 14 secondi Inizierà una stagione in online con un po' di ragazzi, con un po' di persone E potete affrontare vedete il mondo intero, cioè vi mettete in online, partite con una stagione, affronterete varie persone Nella realtà come succedere, le più volte in online che affrontate la gente vera e propria, dato che qualcuno dice che in online c'è il computer che va, no E' la gente, affrontate la gente vera, persone vere E questa è una stagione, quindi a gennaio partirà una stagione e farete una stagione in online con questa gente qua Poi abbiamo una sfida di lancio, accetta la sfida di Gu... Guiametz I 5 migliori tempi vinceranno un berretto WRC5 e una t-shirt WRC5 Qui ragazzi, tra 24 giorni, se volete partecipare all'online, questa è una prova a tempo, perché sono sfide a tempo Chi fa il tempo migliore, appunto, vince un cappellino e una t-shirt WRC5 Qui abbiamo, vabbè, i shakedown, sono gli uno contro uno Tra 4 giorni, 5 ore, 7 minuti e 6 secondi Vabbè, questo è quando lo registro io, per cui domani sarà già 95 giorni, sarà già 23 giorni, invece sarà già 3 giorni Perché lo registro la sera e lo faccio uscire poi la mattina dopo E questo è l'online Sopra abbiamo i vari tab con le opzioni, abbiamo il gameplay Possiamo, vedete, possiamo modificare la difficoltà degli avversari Facile, media, difficile, esperto Per i principianti opterei di iniziare almeno 2-3 tappe in facile, perché dovete abituarvi un po' con i comandi Abbiamo i vari stili di guida, vedete che selezioniamo abbiamo i vari Abbiamo simulazione, professionista, semiprofessionista e dilettante Dove ovviamente cambiano le difficoltà Questo l'abbiamo fatto, sì, ok Abbiamo i comandi, vedete che qua possiamo regolare tutte le opzioni del controller La sensibilità dell'acceleratore, dove far apparire la zona morta Cioè che voi schiacciate e lei non agisce La sensibilità dei freni, la zona morta dei freni La sensibilità dello sterzo, zona morta sterzo Livello vibrazione Qua se fate modifica i comandi potete modificarvi appunto i comandi E questo è a posto I dati, qua avete tutti appunto i vostri dati Numero di vettorie nelle varie categorie Numero di risultati da podio nelle varie categorie Rapporto vittorie, rally completati Partenze, tappe speciali Le auto più usate, addirittura vi danno anche Gestione profilo, qua potete appunto mettere il vostro nome, cognome, nazionalità e tutto quanto E potete eliminare i dati Abbiamo la regolazione dello schermo Con gli hood in gara, come abbiamo visto prima Il tachimetro, i tempi, i danni, la barra di avvenzamento L'indicazione copilota Cioè le frecce sopra lo schermo E il controllo rovescio alla partenza Poi possiamo regolare La distanza telecamera abitacolo Ecco vedete, a me non mi piace quella interna Per cui la metterei un po' più lontana Quasi quasi proviamo anche La mettiamo lontana Senza telecamera esterna normale Ok, perfetto Poi abbiamo audio Possiamo regolare gli audio, il volume in generale Quindi vuol dire rumori, motore, copilota e tutto Io l'ho abbassata di metà per registrare Abbiamo rumori di sottofondo Per esempio le voci del pubblico I suoni della foresta e tutto Motore dell'auto l'ho messo a manetta Volume copilota a manetta Questo no Poi abbiamo il copilota Che possiamo Regolare la sincronizzazione Delle indicazioni del copilota Quindi la lettura delle note Come ce le facciamo dire Molto in anticipo Cioè tanto prima rispetto alla curva In anticipo un po' prima rispetto alla curva Normale come Come se fosse una realtà Cioè una realtà normale Cioè sta arrivando la curva Ce la dice Tardi Quando siamo vicini alla curva E molto tardi Quando siamo molto vicini alla curva Io l'ho messo in anticipo Perché voglio che me lo dice un po' prima Della curva Per cui mettiamo in anticipo Riconoscimenti Qui abbiamo i riconoscimenti Classifiche Queste qua sono le classifiche in online Vedete il primo al mondo In questo momento A rally di Monte Carlo Questa prova è Fazzo Jetson Che In 1.58.444 Cosa che io al momento Non posso fare Però possiamo sfidarlo Perché gioca contro questo giocatore Se io schiaccio triangolo Vedete che viene Viene giù il download Viene giù il fantasma Nel suo tempo Se andiamo a provare Ci sarà il suo fantasma Contro di me E se gli batto il tempo Finirò in prima posizione Lì dove è lui In questo momento Ci sono 13.500 13.500 Partecipanti Alla sfida Fate voi E questo è Abbiamo Multigiocatore Che abbiamo Multigiocatore in online Sempre le sfide Multigiocatore locale Da giocare in due Però non so come Se è uno schermo condiviso Con la stessa prova Non so E non lo provo Perché non ho il secondo joystick In solitaria Possiamo Fare una tappa veloce Cioè possiamo scegliere Una tappa da un rally E provare a farla Come ho fatto io adesso Rally rapido Vuol dire che possiamo Fare un rally Con tutte le sue tappe Carriera Che possiamo appunto Iniziare una carriera Partiremo dalla Junior Il mio vrc Con le ds3 Poi ovviamente Se faremo dei bei Campionati Delle belle gare Ci chiameranno In vrc2 La seconda categoria E poi magari Più avanti Approderemo in vrc Quando fate Adesso vabbè Nuova carriera Fate nome Cognome Mettete Nazionalità Voce Maschile E poi vi faranno Vi faranno provare La scuola La scuola Scuola rally E tutto quanto Vedete Scuola di rally Adesso non ve la faccio vedere Se no ragazzi Viene fuori Veramente tanto Troppo lungo Io sono limitato a far video di 15 minuti Perché se no Qua non Non Come si dice Cioè io arrivo fino a 15 minuti Poi non registro più Per cui vorrei evitare Scuola di rally Ve lo dice la parola stessa Vi fa scuola Su come guidare la macchina da rally Tutto qui Poi vabbè Lo scoprirete voi Nel caso Lo Lo comprerete Facciamo una tappa veloce Vedete che qua Facciamo una tappa speciale Rally Adesso scelgo Un rally Diverso Facciamo un rally Della Germania Vedete Andate qua C'è la tappa C'è il rally Qua scegliete la tappa Io scelgo Questa qui Corta 3 km 59 Max Whaler Potete scegliere il momento della giornata Mezzogiorno Tramonto Alba Mezzogiorno Ok Mezzogiorno Mettiamo Condizioni meteo Serene Ok Conferma Auto e squadra Possiamo scegliere le tre categorie Abbiamo la Junior VRC La Junior VRC Che è solo Citroen DS3R 3 Max Vedete ci sono anche due ragazze Charlotte Dalmasso E Marine Deton Io scelgo Vabbè Io prendo una VRC Che cazzo Però stavolta Prendo la Volkswagen Di Latvala E Attila Quindi prendiamo questa Configurazione Auto Qui potete configurare la vostra auto Vedete gomme Potete scegliere se fare da asfalto Da ghiaia Qua comunque lasciamo Lasciamo quelle predefinite Sospensione anteriore Potete alzarle Abbassarle Le estensioni Degli ammortizzatori E tutto ragazzi Potete fare tutto Sospensioni Trasmissioni Freni Insomma Potete caricare il vostro assetto Che poi usirete Nelle altre prove Nel caso non dovreste cambiarlo Telecamera libera Sarebbe Ah ecco Che possiamo guardare La nostra macchina Perfetto Ok Muovete con l'ala logico Facciamo inizia Il tempo imprevedibile in montagna Non facilita la scelta Degli pneumatici Eh ma dai Se io parto con l'asciutto Arrivo su col bagnato Sono cazzi Perfetto Ottima cosa Adesso ragazzi Cerchiamo di fare Una prova decente Così poi ci salutiamo E vediamo un po' Se non mi fa girare le palle Come prima Perché prima Avevo già registrato Ma durante il caricamento Così si è bloccato No stavolta Qua prima di partire Possiamo fare le opzioni Possiamo sempre regolare L'audio Regolare i comandi E regolare lo schermo Ok Facciamo inizia Mettiamoci dentro Vedete che ho allontanato Un pelino la telecamera Avete visto Vedete ragazzi Ci vuole Ci vuole comunque Mano a fare queste cose Perché L'hanno fatto molto difficile Questo si Rispetto agli altri Molto molto più difficile Si è pure frenato Su Destra 3 Meno Sinistra piena Il Destra 5 Il Sinistra 2 Su Destra 2 Meno Molto breve Il Sinistra 2 Ah Boom Dobbiamo stare fuori Su Sinistra 2 Più chiuso Per Sinistra 2 Su Destra piena Attenzione Chiuso Destra 3 Il Sinistra 2 Stava uscendo bene E ragazzi Dovete capire Che l'ho preso Anche da due ore Il suo gioco Devo prenderci Un po' la mano Come rumori Come tutto Ragazzi È stato fatto Un buon lavoro Perché sentite Anche il rumore Della macchina Su Sinistra 2 Lungo Chiuso Ino Destra piena Attenzione Incrocio Tornante Destra Largo Che non è Urca miseria Annaggia Devo provare a fare lo sborone Ma niente da fare Due ore Pian pianinco Pian sinistra destra Uh Su Sinistra 3 Chiuso Sinistra 2 Meno Su Destra 1 Si apre Ino Destra 3 Ma Mamma mia Uh Eh qua ragazzi C'è da Da smanettare Un po' Con la macchina E tutto Perché Non è stabile Per un cazzo Ok E qui è finita Padre niente Ho fatto solo Danni che il resto Qui vi dà Poi comunque Tutti i tempi Facciamo il triangolo Abbiamo il replay E rivediamo Un po' La nostra schifo Di prova Come il replay È bello Vedete che Montano su le Tipo come se fossero Le gopro Anzi Sembra proprio Che siano le gopro Guardarle così Vedete qua mi sono girato Ottima cosa Per cui niente ragazzi Io Vi ho voluto dare uno sguardo Voluto dare uno sguardo Così a questo gioco Lo trovo carino Sì Non mi sono piaciute Certe cose Ma vabbè Come in tutti i giochi Non è che può piacere Sempre tutto Ve lo consiglio Se volete divertirvi un po' Passare un po' Tempo diverso Magari Rispetto a GTA Rispetto a Altri giochi Se volete divertirvi un po' Con gare di macchine Un po' più difficile Perché comunque Il rally Non è facile Altro che dicono Che Voglio giocare a formula 1 Voglio vedere Uno che gioca a formula 1 Giocare a un gioco così Cosa fa le prime volte Se non va a sbattere Ogni tre secondi Che bella Guardate questa Che bella Questo vedete che Era uscito Quasi giusto Dovevo stare un po' Pindin A cui dai Basta ragazzi Io Vi rimando domani A un Credo all'ultimo video Registrato da play 4 Perché comunque Poi da lunedì Mi ritorna Mi ritorna Il pc Domani vi lascio Un altro La seconda parte Dei Delle spiegazioni Su Farming Simulator 2015 Su PS4 E poi lunedì Facciamo pausa In teoria Martedì Vi lascerò Di nuovo Tornerò Con la 43esima puntata Della serie tedesca Per cui noi ragazzi Ci vediamo Della mattina Con un prossimo video Ciao ciao